Prendo atto, buona giornata e buon lavoro. Lei fa sempre i comizi, più che domande mi incuriosisce. Grazie, buona fortuna. E io sono sempre e comunque ogni tipo di droga. Contro, contro, contro. Prendo atto, prendo atto, prendo atto, prendo atto, prendo atto. Cinque, ne ha cinque risposta. Per che cosa? Cioè mi devo scusare per le mie idee? Io sono contro ogni tipo di droga. Mi spiace se lei invece è a favore di qualche tipo di droga. Non c'è nessun dubbio, diciamo, la tua battaglia? No, 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 io sono contro la droga. Senza se e senza ma. E quando c'è di mezzo un morto, c'è solo da pregare.